Scuola Sicura dedicato alla vaccinazione anti-Covid-19 per studenti, genitori e personale scolastico sarà presente dalle ore 10 alle ore 14 di questa mattina presso l'ingresso via Aldo Moro numero 10 dell'Istituto Comprensivo Gino Russivairo di Agropoli. Si fa presente che, fanno sapere dall'Istituto, oltre al personale scolastico, l'attività vaccinale è fruibile anche per tutte le persone che ne faranno richiesta e che hanno i requisiti clinici. L'obiettivo della campagna vaccinale è quello di garantire un rientro in sicurezza a scuola per vivere un anno scolastico in tranquillità. Ad Agropoli, inoltre, l'Asla di Salerno ricorda che anche per questa settimana è previsto un calendario vaccinale che prevede l'ingresso senza prenotazione, sia per prime dosi che seconde, di vaccino Pfizer. Ad Agropoli le sedute vaccinali sono previste per martedì 14 alla sede della Croce Rossa, dalle 15 alle ore 19 in Viale Lombardia, martedì 14 settembre presso la sede della Croce Rossa, dalle 15 alle ore 19 e domenica 19 settembre, sempre presso la sede Croce Rossa, dalle 8 alle 13. A Santa Maria di Castellabate, invece, la seduta è prevista per mercoledì 15 settembre, dalle 15 alle ore 19, mentre ad Acciaroli, giovedì 16 settembre, la seduta vaccinale si verrà dalle ore 15 alle ore 19.